Il Rosatellum è una legge molto particolare nella quale favoriscono le ammucchiate, però senza inserire le preferenze. Qui invece per esempio in Sicilia ci sono le ammucchiate addirittura con le preferenze. Il gioco è sempre quello di creare portatori di voti perché i loro voti non li sanno prendere con consenso. Non ci batteranno credo in Sicilia, non ci batteranno credo a livello nazionale, perché più fanno le ammucchiate più i cittadini si rendono conto che sono dei veri e propri pachidermi che non saranno in grado di governare il giorno dopo le elezioni. La Sicilia se dovesse avere Giancarlo Cancelleri, presidente della regione, potrà venire a dialogare col governo centrale per avere autonomia finanziaria ma soprattutto per avere quello che gli spetta. Non vedrete lo spettacolo che avete visto con Crocetta che fa un patto col governo e si prende 500 milioni invece di 4 miliardi. Ed è questo il punto fondamentale. Voi avete uno statuto speciale che va utilizzato, avete un'autonomia finanziaria che va fatto un accordo finanziario in modo tale da poter sfruttare al massimo le risorse che ci sono all'interno di questa regione e non disperderle o addirittura rinunciarvi come è stato fatto. È una situazione spot in cui Minniti ha provato a mettere un tappo in Libia che sta creando Lager in Libia ma anche in Niger con gli accordi delle tribù del sud della Libia e soprattutto è un tappo che può saltare da un momento all'altro e ci potremo ritrovare il doppio dei flussi che avevamo prima. Perché il vero problema è che Minniti ha fatto degli accordi su cui c'è anche poca chiarezza e su cui noi chiediamo chiarezza perché vogliamo sapere se il governo sta trattando anche con organizzazioni criminali libiche ma non ha coinvolto l'Unione Europea in quello che si doveva fare dall'inizio degli hotspot e dei centri di primo approdo in Africa, nei paesi del Nord Africa e dell'Africa subsahariana stabile dove queste persone possono andare a fare la loro domanda di ingresso nell'Unione Europea e capire in quella sede se ci sono i presupposti per farli entrare oppure no tutto sotto leggi anche dell'ONU e delle organizzazioni non governative che sorvegliano la mancanza o l'esistenza di diritti umani questo era il principio base, quello che ha fatto Minniti è una cosa che è destinata a durare poco tra l'altro qui i cittadini Lampedusa ma anche gli operatori del settore ci dicono che i flussi non sono diminuiti stanno solo cambiando rotta e questo è il vero problema quindi la questione è che adesso non si parla più dei flussi migratori perché Minniti ha detto di averlo risolto non perché sia stato risolto